Io non so cosa dire, sono senza parole davvero, mi ringrazio, è fantastico, non pensavo davvero a tutta questa gente, io sono emozionatissima, è da ieri che non dormo, sono stanchissima, ma sono davvero contenta, questa notte non ho dormito, poi quando mi hanno detto che ci sarebbe stata questa cosa è stato peggio ancora, perché io sono timida, chi mi conosce sa che io sono una ragazza normale e quindi sono davvero emozionata, mi sto emozionando.